La Timone Pumma Production è lieta di presentare... ...se me ne sto a case! Non viene mai il mattin Lei se ne sta a casa se c'è un compitin Ci prende per il cul Si sveglia stranamente a male al pancin Però sta che tutto il giorno su MSM Sta a casa e quando torna prende sempre il set Il ritornello che ci viene dal cuore Non ditelo all'amichi Se no si incazza e tira su un bordel Lo sanno tutti ormai Dal grande Filippino all'Ottoneo Se le domandi perché tu stai a casa Lei ti manda a cagar Poi ti dice è mica vero Vai a lavorare Il ritorno che ci viene dal cuore Che bossona è la vec Urli troppo Che bossona è la vecchia Che bossona che sei Grazie Urla troppo Non è vero Fidati Fidati Scommettiamo 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 Scommettiamo